Ciao scusami, posso fare la spesa con questo? No. No? Va bene, grazie. Bene, oggi sono senza tetto. Quando sono fortunato ricevo queste monete. Andiamo a fare la spesa. Ciao scusami, posso fare la spesa con questo? No. Noi non abbiamo tempo di contarlo. Ok, grazie. Senti porti divisi i centesimi da 50 centesimi, i due centesimi da un euro li prendiamo. Va bene, grazie. Ciao, posso fare la spesa con questi? No, non lo prendiamo. Ah, va bene, grazie. Per aiuterci. Ciao, scusami, posso fare la spesa con questi? Non so, ma forse riportando c'è il problema. Ma magari prendo un bar che è un visore, non ti li fai cambiare. Ah, va bene, va bene, grazie, grazie. Ciao. Scusami, posso fare la spesa con questi? No? Va bene. Scusami, posso fare la spesa con questi? Sì. Eh, sì. Sì. Sì, sì. E quanto hai? Eh no, devo contarti. Eh, prendi quello che vuoi e poi li contiamo. Vabbè, casomai li conto un attimo sulla quantità e così almeno so quello che devo prendere. Grazie mille. Ciao, scusami, posso fare la spesa con questi? No, la spesa no. 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 Va bene, grazie. Eh, eh, eh. Ciao, scusami, posso fare la spesa con questi? No. Sì. Sì. Posso fare la spesa con questi? No, io no. Ah, ok. Grazie. Vabbè, sono soldi. No. No. Caro, scusami, posso fare la spesa con questi? No. No? No. Ciao, scusa, posso fare le spese con questi? Ok Ciao, scusa, posso fare le spese con questi? Troppo Vabbè, grazie Ciao, scusa, posso fare le spese con questi? No, adesso no No No, bene, grazie Ciao, scusa, posso fare le spese con questi? No No, vabbè, grazie Arrivederci Ciao, scusa, posso fare le spese con questi? No Grazie Ciao Scusami, posso fare le spese con questi? Ok, se vuoi riconto Vuoi contarle pure qua? No 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 Grazie a tutti.